Musica Poco più di un elettore su due ha votato alle amministrative in quattro comuni della regione al momento centrodestra in testa Livio Vecchietta e il nuovo sindaco di Ronchi Gloria Bressani guiderà Nimis Andranno al ballottaggio domenica 6 novembre Marchetti e Soramelle a Codroipo nuova sfida tra Cisinte e Altrana Monfalcone dove a sorpresa per un soffio il centrodestra non si è imposto al primo turno Si è costituito questa mattina ai carabinieri di Tolmezzo l'automobilista quarantenne che il sera ha investito ed ucciso una pensionata ad Artaterme e sarà accusato di omicidio stradale 15 esplosioni e fiammate visibili a chilometri di distanza paura la scorsa notte a Pordenone nella zona di Torre per un incendio al deposito di bombole GPL di via Ferraris nessun ferito ancora da chiarire le cause In attesa del bel gioco l'udinese respira battendo il Pescara altro scontro salvezza giovedì contro il Palermo se ne parla stasera Bianconero ospite anche l'ex giudice sportivo Gianpaolo Tosè A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale ampia pagina dedicata in apertura alle elezioni amministrative Telefriuli ha seguito le operazioni di spoglio con una lunga diretta iniziata questa mattina alle 8.30 mezz'ora dopo l'apertura dei seggi per le operazioni di spoglio appunto una diretta durata fino alle 13.30 durante la quale vi abbiamo dato conto in tempo reale dei risultati ebbene il centrodestra avanza a Codroipo e Monfalcone comuni che andranno al ballottaggio domenica 6 novembre si sfideranno rispettivamente Marchetti e Soramele e Cisinte e Altran a Ronchi dei Legionari il comune è stato conquistato dal vice sindaco uscente Vecchiet che ha distanziato di un centinaio di voti l'ex collega di giunta Masara sostenuto dal PD finisce poi il commissariamento a Nimis non ce l'ha fatta l'ex primo cittadino Tosolini nuovo sindaco è Gloria Bressani bassa l'affluenza alle urne che nei quattro comuni va dal 51 al 57% questo vuol dire che è andato a votare poco più di un elettore su due sono consultazioni locali e certo come è vero che le elezioni comunali fanno sempre storia a sé è difficile tuttavia non cogliere in questa tornata di amministrative segnali importanti in vista delle regionali del 2018 a giudicare dalle reazioni delle parti politiche non solo quelle ufficiali anzi soprattutto quelle colte nelle riunioni a porte chiuse la sensazione è che il centro-sinistra si lecchia ancora una volta le ferite e si chieda nuovamente come correre ai ripari mentre il centro-destra si sfrega le mani e comincia a credere davvero nell'effetto trascinamento delle amministrative di giugno con la conquista di Pordenone e Trieste a partire dalla difesa del feudo di Codroipo dove il sindaco uscente Fabio Marchetti, sostenuto dal centro-destra ha ottenuto il 47,42% delle preferenze ha staccato di 10 punti il candidato del centro-sinistra Alberto Soramelle fermato al 37,53 andranno al ballottaggio domenica 6 novembre esce dai giochi Graziano Ganzit, sostenuto dalla civica Codroipo nel cuore che ha ottenuto il 15% dei voti un malloppo interessante in vista del secondo turno il dato più eclatante è quello di Monfalcone altro comune che andrà al ballottaggio ma per un soffio la candidata del centro-destra Anna Maria Cisinta ha ottenuto il 49,53% delle preferenze il sindaco uscente del centro-sinistra Silvia Altran si è fermata al 34,04 il PD rimane il primo partito nella città dei cantieri ma è concreto il rischio che il centro-sinistra perda Monfalcone per la prima volta dal dopoguerra sono fuori dai giochi la candidata dei 5 Stelle Elisabetta Maccarini 11,21% e Suzana Cullier, sostenuta da una civica espressione del centro-destra al 5,8% nuovo primo cittadino di Ronchi dei Legionari è il vice sindaco uscente Livio Vecchiette che sostenuto da tre liste civiche ha ottenuto il 34,45% delle preferenze di fatto un centinaio di voti in più rispetto all'ex collega di giunta Enrico Masarà sostenuto da più liste, comprese quella del PD che ha convinto il 37,72% degli elettori seguono Lorena Casasola del Movimento 5 Stelle con il 18,75% Daniele Degenhardt di Ronchi Viva con il 9,35% e infine Luigi Bonn sinistra per Ronchi con il 2,73% finisce l'era del commissariamento a Nimis dove sulla poltrona di sindaco siederà Gloria Bressani sostenuta dalla Civica rinnova Nimis l'ha votata il 46,92% degli elettori che si sono presentati alle urne grande delusione per il sindaco uscente Walter Tosolini sostenuto dalla Civica per un nuovo Nimis si è fermato al 29,79% si è rappresentato come unico candidato alle comunali del 5 giugno che non furono validate perché non fu raggiunto il quorum Gabriel Vaccarin, tiare di Nimis e fratelli d'Italia, alleanza nazionale ha ottenuto il 23,29% dei voti proprio Nimis ha registrato l'affluenza più bassa alle urne ha votato solo il 51,39% degli aventi diritto percentuali di poco più alte negli altri comuni 51,39% a Monfalcone 55,12% a Ronchi 57,29% a Codroipo anche qui un altro segnale da cogliere in vista dei prossimi appuntamenti elettorali ha votato poco più di un cittadino su due difficile trovare una ragione convincente diversa dalla disaffezione nei confronti della politica questo dunque il quadro complessivo andiamo ora a vedere la situazione comune per comune a partire da Codroipo che dovrà attendere ancora due settimane per conoscere il nome del nuovo sindaco il vento di centrodestra soffia forte su Codroipo tanto forte da spingere quasi Fabio Marchetti a confermarsi sindaco al primo turno l'uomo della coalizione di centrodestra non ce la fa ma solo per poco e tra due settimane dovrà vedersela con Alberto Soramel penalizzato da un PD con il fiato corto e fermatosi 10 punti percentuali sotto al rivale il 6 novembre i loro nomi si ritroveranno assieme nell'urna per il ballottaggio Marchetti partirà dalla pole position prevedevo con ballottaggio non con questa percentuale e con questo differenziale rispetto al secondo arrivato pertanto adesso i codroipesi saranno chiamati a scegliere tra due modelli completamente diversi antitetici di gestione della città di Codroipo è il primo tempo di una partita che si concluderà solo il 6 di novembre e allora quando sapremo chi sarà il nuovo sindaco della città di Codroipo noi lavoreremo fino all'ultimo minuto utile come abbiamo sempre fatto per riconfermare quello che è stato un ottimo risultato in questo primo turno adesso si sceglie effettivamente su due modelli e in questo caso sono due modelli completamente divisi e antitetici di gestione futura della città di Codroipo il nostro è il modello che dice no ai profughi l'altro è quello che dice sì ai profughi il nostro modello che dice no alle uti l'altro che dice sì alle uti il nostro è il modello che dice no a questa riforma scellerata della sanità regionale l'altro invece la conferma in pieno soddisfatto per il ballottaggio pensavo qualcosa di meglio qualche punto più su in realtà almeno dalle sensazioni ma insomma abbiamo una decina di punti da recuperare e adesso credo che ci sarà la possibilità di un confronto di tipo quasi personale sui candidati sindaco e l'elettorato dovrà decidere proprio quale dovrà essere il proprio sindaco ci siamo e combatteremo bene e faremo valere le nostre ragioni nelle prossime due settimane abbiamo avuto una campagna elettorale che si è distorta progressivamente su temi inventati o comunque non di pertinenza locale quindi pensiamo che in queste due settimane sia possibile riportare alla ragione in qualche modo o comunque su temi pertinenti tutta la campagna io penso che si possano recuperare raccontando la verità e non le menzogne e poi c'è il terzo incomodo della campagna elettorale di Codroipo Graziano Ganzit che sul prossimo futuro non ha dubbi nessuna alleanza dice sarò il cane da guardia di chi governerà da solo con la sua civica Codroipo nel cuore ha ottenuto un risultato di tutto rispetto Graziano Ganzit il terzo incomodo di Codroipo non è riuscito nel miracolo del ballottaggio ma il 6 novembre i suoi 1246 voti potrebbero essere determinanti per far vincere Marchetti o Soramel alleanze ufficiali però non ce ne saranno mi rendo conto che questo 15% dei voti sono di persone sensibili e coscienti che hanno a cuore l'ambiente e io cercherò di rappresentarli ecco già si cominciano a parlare di ballottaggio e a dire ma chissà i voti di Ganzit dove andranno a botta fredda io non ho un elettorato non sono proprietario dell'elettorato e l'elettorato casomai che è proprietario di me in quanto candidato e ha dato la preferenza diciamo e il sostegno a qualcosa che doveva essere ben diverso da quello che hanno proposto gli altri in questi confronti diretti mi sono accorto di avere delle persone che comunque non rappresentano quello che noi intendevamo di sicuro visti i numeri la componente di Codroipo nel cuore sarà importante in consiglio comunale quindi lì potrete portare avanti le vostre battaglie ma speriamo che appunto non continui questo trend di calo di democrazia perché se devi fare 3-4 consigli comunali all'anno c'è poco da discutere chi andrà a governare il paese sicuramente troverà in me un cane da guardia nella difesa del territorio e se a Codroipo soffia forte il vento del centro-destra il centro-sinistra rischia di perdere quello che da anni è un proprio baluardo Monfalcone anche qui il ballottaggio al momento in testa sul sindaco uscente del centro-sinistra al Tram la candidata del centro-destra Cisint Con tanta euforia è stata accolta dagli elettori nel gazebo allestito in piazza a Monfalcone Anna Cisint la candidata ad un centro-destra compatto che è riuscito nel primo turno a stravolgere i risultati raggiunti a Monfalcone dalla sinistra negli ultimi 20 anni In questi 5 anni abbiamo lavorato tantissimo abbiamo lavorato ascoltando le persone abbiamo lavorato cercando di portare avanti con l'amministrazione comunale che purtroppo è stata sorda ai nostri appelli molte situazioni a partire dal problema degli alloggi abbiamo affrontato situazioni di welfare di fiscalità di commercio eccetera e io credo che la credibilità passi attraverso le azioni e quando come in questo caso c'è stato un plebiscito bisogna veramente incominciare a dire che cosa di che cosa c'è bisogno vuol dire che così non va questo nucleo che oggi la città ha premiato è quello che porterà avanti al ballottaggio in maniera come dire ancora più intensa con pancia a terra a partire da domani tutta la situazione quindi lei strizza l'occhio ma guardi lei vuol farmi dire delle cose che io non dirò perché come le ho detto all'inizio guardi come le ho detto come le ho detto all'inizio noi abbiamo un percorso e siamo dell'opinione che all'interno del consiglio comunale quando finalmente governeremo per portare via questa città da una situazione drammatica che è quella in cui si trova noi faremo lavorare fattivamente collaborando nei fatti con tutte le componenti che saranno presenti in consiglio comunale di tutt'altro umore quartier generale del PD cittadino ci saremo aspettati sicuramente di fare un miglior risultato di quello che invece è uscito dalle urne tuttavia abbiamo ancora 15 giorni per recuperare una campagna elettorale che è stata molto brutta e non per colpa nostra assolutamente anzi siamo stati troppo corretti e troppo educati quindi adesso coltello tra i denti perché io questa città la lega non la lascio c'è chi dice che proprio questa parte dell'elettorato che non si è presentata è costituita dalla sinistra dalla sinistra più forte in sostanza ma non si sa quello che è importante è che dobbiamo far capire ai nostri elettori che votare è un diritto bisogna che siano veramente di nuovo chiamati a questa loro responsabilità e a questo loro diritto perché poi lamentarsi quando le cose si sono lasciate correre non va bene su che cosa punterà in questi 15 giorni ma sulla verità diremo le cose così come sono e diremo anche che le cose che la destra sta promettendo sono cose che non potrà realizzare una sfida tra quattro donne quella di Monfalcone abbiamo sentito le due che proseguiranno la loro corsa si sfideranno al ballottaggio e sentiamo adesso le due sconfitte che comunque tali non si sentono Elisabetta Maccarini per il movimento 5 Stelle e Susanna Cullier sostenuta da una civica di centrodestra 5 Stelle si è presentato per la prima volta alle amministrative di Monfalcone si è confermato terza forza politica alle spalle di centrodestra e centrosinistra beh noi ce l'abbiamo messa tutta io posso solo essere soddisfatta del mio lavoro perché ho dato il massimo e abbiamo dato il massimo con tutta la squadra è la prima volta appunto che ci presentiamo in una città decisamente difficile molto strategica e quindi è un risultato molto importante a mio avviso ecco e possiamo ritenerci contenti una città strategica una città con dei poteri molto forti e quindi il movimento 5 Stelle faceva decisamente paura e questo è un risultato che sicuramente ci rincuore e ci rinfranca ripeto però vorrei sottolineare che Monfalcone è una città decisamente più sotto l'occhio del ciclone e quindi sicuramente ci hanno messo il bastone fra le ruote più di qualcuno insomma ecco c'è stata una difficoltà maggiore ecco diciamo soddisfatta per il risultato ottenuto Susanna Cuglier che ha creato una lista indipendente secondo lei il nuovo sindaco di Monfalcone su che cosa deve puntare? il nuovo sindaco di Monfalcone deve puntare ovviamente le problematiche della città quali secondo lei la prima ad affrontare diamo delle priori quella che si è sentita nella nostra campagna elettorale l'immigrazione il lavoro e andiamo adesso a Ronchi dei legionari erano compagni di giunta della giunta uscente ora si ritroveranno uno sindaco dunque in maggioranza l'altro all'opposizione Livio Vecchiette il nuovo sindaco di Ronchi ha superato di 90 voti il suo antagonista principale Enrico Masarà del PD una lista trasversale ha espugnato il comune di Ronchi dei legionari Livio Vecchiette già assessore ha superato di 90 voti il suo collega Enrico Masarà pure assessore candidato sindaco sostenuto dalla sinistra anche se la vittoria è risicata noi eravamo abbiamo lottato per vincere siamo convinti che potevamo vincere diciamo la gente ha riconosciuto il lavoro che io ho fatto in questi dieci anni ha riconosciuto il lavoro dell'amministrazione uscente ha riconosciuto il lavoro dei candidati consiglieri e ha riconosciuto il lavoro della coalizione che mi ha sostenuto in questi ultimi mesi Cosa ha fatto secondo lei la differenza? La differenza credo sia anche frutto un po' della competenza della serietà che è sempre stata un po' una mia prerogativa e credo che questo i cittadini lo abbiano riconosciuto ecco non ho mai fatto false promesse ai cittadini non ho fatto demagogia nel populismo ho detto ai cittadini quello che si può fare è quello che non si può fare ci sono delle liste transversali che mi hanno sostenuto perché hanno creduto a una persona come me una persona nei fatti per cui c'è una lista quella di cittadini contro la fusione all'interno del quale ci sono alcune persone che sono hanno deciso di un po' uscire del PD e una lista quella amici per ronchi di centrodestra che hanno deciso di spogliarsi dei loro simboli mi scusi solo per sostenere la mia persona innanzitutto nel primo periodo credo il primo secondo anno assieme dobbiamo portare avanti delle cose che avevamo stabilito nel programma assieme tra l'altro ricordo che parte degli assessori che erano in giunta con me si sono dimessi ai primi di agosto e hanno lasciato un po' hanno abbandonato la giunta per motivi loro all'interno del loro partito e noi nel frattempo abbiamo preso altre decisioni che saranno portate a termine nei prossimi mesi abbiamo fatto delle scelte anche senza parte della giunta che era stata nominata a suo tempo dal sindaco ed ora sentiamo lo sconfitto Masara una sconfitta che brucia questa è una sconfitta che brucia per il gran lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di squadra sicuramente un complimento al vincitore e ai vincitori delle liste io posso dire però che veramente come partito democratico i numeri non sono stati come l'ultima volta anzi c'è stato veramente uno scorpamento dei voti che sono andati a mio avviso verso i 5 stelle e le nostre tre liste civiche di supporto forse non hanno dato quei frutti sperati dopo tre vittorie perché mi ricordo le elezioni del 2001 dove abbiamo vinto nel 2006 abbiamo vinto nel 2011 abbiamo vinto per la prima volta sederò sui banchi dell'opposizione comunque sarà sicuramente un'opposizione diciamo collaborativa cercheremo di individuare insieme quali sono le priorità per Ronchi dei Legionari un giudizio sul risultato elettorale complessivo di Ronchi dei Legionari sicuramente la vittoria di Livio Vecchiet premia la persona premia un assessore che ha svolto il suo mandato in maniera molto concreta e professionale d'altro canto lo ha fatto anche il candidato Enrico Masarà ma Enrico Masarà sconta la spaccatura che c'è stata nel centro-sinistra a Ronchi dei Legionari questa spaccatura che ha disorientato gli elettori e che ha spaccato in due la popolazione e siamo a Nimis dove finisce il commissariamento non ce l'ha fatta l'ex sindaco Walter Tosolini nuovo primo cittadino è una esordiente scopriamo di chi si tratta nel prossimo servizio Gloria Bressani da poche ore sindaco di Nimis ha un compito importante dimostrare che la politica non è fuori moda Nimis il paese dove le ultime elezioni sono state annullate per insufficienza di quorum il nostro compito sarà importantissimo e difficilissimo dobbiamo lavorare con tutti e per tutti per cercare di migliorare Nimis e riunirlo da queste divisioni che ci sono e cercare di farlo rinascere rinascere e riposizionarlo proprio nel territorio e nella sua centralità il vecchio sindaco era di centro-sinistra lei è più moderata? senz'altro più moderata mi collo con un'area diciamo centrale essendo sindaco di tutti ritengo di poter essere sindaco di sinistra dei cittadini di sinistra di destra e di centro lei è pensionata prima di andare in pensione che cosa faceva? lavoravo alle dipendenze del comune di Nimis come impiegata amministrativa nell'ufficio tecnico quindi da impiegata a sindaco conosci già tutti i segreti del comune diciamo che conosco una buona tutto il territorio chiaramente una buona fetta della popolazione conosco i loro problemi le prime cose che farà quali saranno operativamente? operativamente intanto nominare la giunta che è indispensabile provvedimenti concreti? la nomina dei responsabili dei servizi dei relativi servizi del comune quindi qualche vendetta qualche vendetta da impiegata? no assolutamente anzi ho un ottimo rapporto collaborativo con tutti i dipendenti chiudiamo la pagina dedicata alle lezioni amministrative per passare alla cronaca si è costituito questa mattina l'automobilista che ieri sera verso le 19.30 ha investito e ucciso Maria Grazia Redavid una pensionata di 65 anni ad Arta Terme l'uomo un quarantenne si sarebbe consegnato spontaneamente i carabinieri di Tolmezzo i militari hanno provveduto al sequestro dell'auto una Golf bianca la donna al momento dell'investimento era appena scesa dalla Corriera in via Carducci doveva essere stata in gita con un'amica inutili i soccorsi le ferite riportate nell'urto sono risultate fatali l'automobilista sarà accusato di omicidio stradale mattinata di passioni per i pendolari della linea ferroviaria Venezia Tarvisio alle 6.25 la circolazione è stata sospesa tra Spresiano e Conegliano per un incidente una persona è stata investita lungo i binari all'altezza di Susegana la linea è stata interrotta per consentire l'intervento dei soccorsi dalle 7.40 è ripresa la circolazione su un solo binario a senso unico alternato con rallentamenti fino a 90 minuti dalle 8.25 la linea Venezia Tarvisio è tornata progressivamente alla normalità i treni hanno subito ritardi fino a 70 minuti mentre alcuni regionali sono stati cancellati o limitati nel percorso di viaggio infortunio sul lavoro poco dopo le 16 all'ABS di Carniaco un dipendente della sezione laminatoi è stato colpito in testa al volto da un gancio immediata alla chiamata al 118 che l'ha trasportato in elicottero all'ospedale di Udine l'operaio ha subito un trauma cranico le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita l'azienda sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente paura a Pordenone poco prima delle due di notte quando sono state registrate delle forti esplosioni nella zona di torre che hanno messo in allarme la popolazione una quindicina le deflagrazioni con fiammate che si sono viste a chilometri di distanza l'incendio e gli scoppi erano partiti dal deposito di bombole di GPL Silvestrin Roberto di via Ferraris dove si sono immediatamente messi a lavoro i vigili del fuoco arrivati con diverse squadre sul posto e il personale del 118 fortunatamente nessuno è rimasto ferito da chiarire le cause dell'incidente litiga con alcuni avventori in particolare due marocchini e viene allontanato dal locale ma poco dopo torna armato di una motosega accesa e una balestra scatenando il panico tra i clienti è successo sabato sera poco dopo le 21 al bar al bottegon a Maniago protagonista un 45enne che vive poco distante dal locale solo l'intervento dei carabinieri ha permesso di ristabilire l'ordine nel bar il 45enne maniaghese ora dovrà rispondere di minaccia aggravata porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere con l'aggravante della discriminazione razziale giallo a Tolmezzo ieri mattina poco dopo le 9.30 un uomo è stato trovato ferito per strada da un passante che stava portando a spasso il cane si tratta di un 48enne rumeno George Ravas Vanea che è stato ricoverato in ospedale a Tolmezzo in gravi condizioni l'uomo è stato accoltellato all'addome ed è stato trovato agonizzante non distante dalla sua auto era sparito da casa sabato sera il figlio ieri mattina aveva allertato i carabinieri tutta da chiarire la dinamica della vicenda si va dall'ipotesi di un gesto di autolesionismo fino all'aggressione da parte di terzi le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica e brutta sorpresa a Trieste per il parroco di Aquilinia Don Paolo Iannacone minacciato per la sua posizione di accoglienza nei confronti dei migranti lo stesso parroco ieri ha commentato così la vicenda su Facebook ritengo un'azione barbara vigliacca e testimone di profonda immaturità umana quella di chi ha ben pensato questa mattina probabilmente mentre celebravo messa di manifestare il suo dissenso verso l'avviata iniziativa emergenziale di accoglienza di profughi rompendo il fanale posteriore della mia vettura sono segnali intimidatori prosegue il parroco che fanno scaturire dal mio cuore una preghiera perché si abbassino i toni e ci si riappropri di un guizzo di civiltà e si è spento al Policlinico di Roma dove aveva lavorato per anni Adolfo Petiziol psichiatra di fama mondiale nato alla Tisana nel 1930 ed ex direttore prima del centro di salute mentale di Tivoli e poi dell'ospedale psichiatrico di Santo Svaldo a Udine i funerali si terranno a Roma mentre sabato 29 ottobre alle 19 una santa messa in suffragio sarà celebrata nel Duomo di Latisana e questa mattina il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e l'assessore comunale alla sanità Pietro Tropeano hanno illustrato la consulta della sanità nuovo strumento pensato per raccogliere le istanze del territorio e farsi portavoce degli interessi sui servizi sanitari ed ospedalieri il sindaco della città è il primo responsabile della salute dei propri cittadini e quindi ha il dovere e il compito di monitorare quello che accade all'interno del comparto sanitario su tutti i fronti quello dei medici di medicina generale quello dei distretti e anche quello dell'ospedale il compito è monitorare costantemente lo stato di salute della nostra sanità i problemi le criticità ma anche gli elementi di eccellenza per stendere praticamente un documento da inviare in regione da discutere quell'organismi istituzionali quindi una diagnosi costante del sistema sanitario del nostro territorio affinché possa migliorare abbiamo promesso in campagna elettorale un'attenzione molto particolare al tema sanitario e questo è l'avvio di un processo che avevamo promesso e che adesso stiamo mantenendo noi come amministrazione comunale siamo convinti che sicuramente sorvegliare e stare attenti a come si evolve la vicenda e la costruzione del nuovo ospedale sia dal punto di vista della viabilità e questo lo abbiamo fatto ma non solo dal punto di vista della costruzione dei parcheggi dal punto di vista di quello che rimarrà del vecchio ospedale perché il vecchio ospedale abbia assicurata sicuramente l'efficienza che ha avuto e che deve avere un ospedale di riferimento regionale per questo noi vigileremo saremo sempre presenti ci riuniremo ogni due mesi per valutare eventuali proposizioni da fare sia in ambito con il direttore generale dell'AS5 sia con la regione inoltre con il dottor Simon con il quale ci siamo già contattati c'è un'ottima sinergia di intenti perché fare sanità a Bordenone vuol dire soprattutto collaborazione tra amministrazione comunale e azienda sanitaria ed ora la vignetta di Fernando Venturini Siamo arrivati allo sport vittoria ossigenante per l'udinese contro il Pescara ma già si guarda la prossima sfida salvezza se ne parla questa sera in diretta bianconero a partire con l'eventuno ci colleghiamo allora con Francesca Spangaro per saperne qualcosa di più a te Francesca Buonasera Alessandra buonasera a tutti sì ovviamente tifosi in primo piano per capire come abbiano accolto e come sempre tifosi in primo piano la vittoria contro il Pescara ieri un po' si criticava un passo indietro leggero seppure sul piano della prestazione rispetto alla sconfitta contro la Juventus ma oggi già i commenti parlano di fiducia nel lavoro di Del Neri e lui l'uomo giusto per rivitalizzare i bianconeri soprattutto Terolo vediamo proprio ora nelle immagini che ha realizzato una doppietta scollandosi da quota zero l'udinese sale a quota 10 e ha un'altra possibilità di togliersi dai bassi fondi giovedì contro il Palermo nel posticipo del turno infrasettimanale che si giocherà alle 20 e 45 Palermo che ieri ha perso per 4 a 1 contro la Roma e che sarà ovviamente anche alla ricerca di punti importanti questa sera Bianconero ospite assieme a Massimo Giacomini Andrea Iome Paolo Matrecano ci sarà anche l'ex giudice sportivo udinese Giampaolo Tosell una presenza che ci permetterà anche di spaziare poi ad altri temi al mondo del calcio in generale e di mondo del calcio italiano abbiamo parlato anche con Manuel Gerolina abbiamo raggiunto telefonicamente sentiremo anche la sua intervista ieri era allo stadio assieme tra gli altri anche a Francesco Guidolin rivedremo le immagini più belle del suo incontro dell'abbraccio con quelli che si sono definiti sempre suoi tifosi di nuovo a te grazie a Francesca dunque appuntamento a partire dalle 21 con Bianconero termina qui questa edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per la vostra cortese attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti